buongiorno amici amiche di nuova news 24 non si parla di altro prima della nuova puntata dell'isola dei famosi stiamo parlando del ritiro ufficiale di cecchi paone e antolini prima si era parlato del malore di antolini poi si era parlato del fatto che cecchi paone non voleva ovviamente dividersi dalla coppia ovviamente la coppia formata tra i due ma sembrerebbe esserci altro il popolo social azzarda varie ipotesi alcune ci sembrano possibile ve le riportiamo dopo l'ufficializzazione del ritiro dell'isola dei famosi alessandro cecchi paone simone antolini sembrano essere ritornati in italia e sembrano stare abbastanza bene il popolo del web però continua a chiedersi il motivo che ha portato i due naufraghi a lasciare l'honduras rientrando in anticipo a parlare del ritiro e di simone antolini e ivan rota che per dago spia citando anche i commenti del popolo dei social l'azzarda varie ipotesi su quelli che potrebbero essere stati i motivi del ritiro improvviso secondo alcuni due si sarebbero messi d'accordo a telecamere spente pur di non proseguire il gioco si dice che antolini non potesse rivelare niente sulla sua figlia melissa di 4 anni anche perché ne aveva parlato già troppo un commento su tutti la verità è che cecchi paone non fa niente dalla mattina alla sera non sarebbe sopravvissuto senza il suo compagno lo chiamavano uomo di cultura ma fa sempre pessime figure almeno questo quello che è stato scritto sul dago spia il sul ritiro di cecchi paone si parlerà durante la prossima puntata non ci sono dubbi amici di nuova news 24 lunedì 15 maggio in prima serata il riaffronterà sicuramente l'argomento svelando probabilmente dettagli che per ora non sono stati ancora svelati però attenzione perché molto spesso anche nell'ultima edizione del grande fratello questi retroscena venivano lasciati un po accantonati per ordini ovviamente maggiori stiamo parlando ovviamente di casa mediaset che potrebbe dire che per un motivo per un altro non debbano essere svelate le cause del ritiro ufficiale intanto la prossima puntata quindi domani sera ci sarà ovviamente un altro televoto aperto un televoto che vede ovviamente altri naufraghi coinvolti spuntano i nomi di marco e paolo i due comici fiore argento gian maria seinato ovviamente chiude il gruppo ma intanto amici di nuova news 24 la nuova puntata domani sera sarà scoppio e tante diteci cosa ne pensate voi di quello che sta succedendo all'isola dei famosi e secondo voi quali sono le vere cause e i motivi che hanno portato al ritiro ufficiale di cecchi paone e il suo fidanzato simone intanto diteci se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nuova news 24 e Grazie a tutti.